... per me, il finalismo il numero uno Gianluigi numero tre Giorgio numero tre numero 9 con il numero 12 numero 15 numero 19 con il numero 22 numero 23 numero 26 a disposizione con il numero 30 2 giusca, 4 caceres 11 decenni 17 benguer 24 caceres 23 caceres numero 39 piangolari sulle certe e fatta i due sulle certe sulle certe Sì tutto il cuore, non sei che un po' è un mistero Tuoi famiglia, sarai a scuola di tutti i nostri Sono qui con te io, ma in te la sta a crescer Due due mani a voi, la porta a me, la porta a me, la porta a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.